Il supporto dei propri tifosi, il bel gioco che mancava da diverse settimane e soprattutto i tre punti dopo un digiuno di cinque turni. È stata una giornata da incorniciare per il Biceglie, quella coincisa con il turno infrasettimanale nel campionato di Serie C con il Matera. Alla vigilia della sfida del Ventura, pace fatta tra la tifoseria organizzata nel Razzurre la società del Presidente, canonico dopo la decisione di ridurre a 10 euro il prezzo dei tagliandi per il settore popolare. Spinti dal ritrovato entusiasmo dei propri tifosi e da un ambiente finalmente di nuovo compatto, Capitan Petta e compagni sfoderano una prestazione di qualità e carattere superando i Lucani con merito, anche se solo con un gol in pieno recupero di Jovanovic. Avvio incoraggiante dei padroni di casa al sesto Gabriellò, preferito proprio al croato, al centro dell'attacco, in becca Azzi che approfitta di un'incertezza di Matera ma da due passi calcia sull'esterno della rete. Al quarantunesimo primo episodio dubbio della partita, Dentello Azzi chiude in rete un perfetto assist di Partipilo ma secondo l'assistente dell'arbitro è in posizione di fuorigioco. Il primo squillo del Matera giunge al nono della ripresa con la conclusione dalla lunga distanza di De Falco che si perde sul fondo. Due minuti più tardi però il forcing offensivo del Biceglie viene premiato. Partipilo fa secco De Falco che lo atterra all'interno dell'area. Per l'arbitro Volpe non ci sono dubbi ed è calcio di rigore. Dal dischetto Dentello Azzi è implacabile e spiazza Galubovic per il vantaggio nerazzurro. Neanche il tempo di gioire che il Matera raggiunge il pari con Casoli abile a raccogliere il perfetto filtrante di Urso e a superare Crispino con un delizioso pallonetto. Il Biceglie protesta vivacemente per un tocco di mani di un giocatore lucano da cui nasce l'azione non sanzionato dall'arbitro che fa letteralmente infuriare anche il pubblico amico. Rabbia che aumenta due minuti più tardi quando Jovanovic ribadisce in rete il tiro di Azzi respinto da Galubovic ma viene pescato in posizione di offside. Per il Biceglie sembra un pomeriggio stregato quando Galubovic sale in cattedra prima volando sul destro a colpo sicuro di Azzi poi respingendo il calcio di punizione del neuentrato Lugo Martinez. Gli sforzi dei nerazzurri sembrano svanire ma al terzo dei cinque minuti di recupero Markic spizza per Jovanovic la cui girata è vincente. Il Ventura esplode di gioia il Biceglie torna al successo dopo cinque gare e si prepara al meglio al derby di sabato in casa della Fidelisandri.